Buonasera a tutti, vi ringrazio. Io uso il tavolino con degli appunti per essere però così una breve lettura di quello che è l'acqua della nostra città, che per me non è assolutamente un problema, anzi è una risorsa, anzi è un valore aggiunto. Partiamo dall'acqua nella storia di Bordenone. In principio, lo sappiamo, c'era l'acqua perché l'acqua ha permesso la massita della nostra città. L'abbondante risorsa idrica fu per lungo tempo la radice identitaria di Bordenone, quell'antico borgo rampegà sulla riva del suo fiume come una rocca senza grande martese. Questo scrisse Ettore Buseto che è il nostro poeta di riferimento. Cioè un borgo che si è sviluppato sull'altura, proprio perché l'altura lo proteggeva dalle montagne. Non è certo nato sotto il livello dell'acqua, bensì si è protetto cercando la parte più alta. Il riferimento al ricco patrimonio idrico, che non sono soltanto i fiumi, ma sono le rogge, sono i laghetti, sono gli acquifrini in quel tempo, hanno dato lo spunto a molte pagine importanti di letteratura e di cronaca in tutte le epoche. mi richiamo a due passaggi particolari che riguardano fasi storiche diverse, per far capire l'importanza del rapporto città-acqua. Il buono è tratto dal diario di Leonardo Donà, 1593, viaggiatore e osservatore per il Doge di Venezia dei centri di terraferma. emerge questa descrizione dinamica di Cordenone. Passa vicino a Cordenone, anzi Lubagna, un fiume nominato un uncello di acqua chiarissima che macina diversi molini e tfolli ed edifici di farcata, il quale è navigabile fin vicino alla terra, onde da Venezia, in barca tutto porta. Toccava poi alla parte Vincenzo Marin di esporre all'intera nazione le caratteristiche delle realtà appena annesse a Regno d'Italia, siamo nel 1867. Descrisse il territorio problemese come lungo, irregolare, impendio, circondato da correnti d'acqua, numerose e limpidissime, perenni e grosse, che costituiscono un immenso tesoro di forza a buon mercato, del quale non può vantarsi nessuna città del Veneto fatta eccezione per Tremiso. Ahimè, poi Tremiso ha avuto un rapporto con l'acqua molto diverso dal nostro, per fortuna loro. Era chiaro che Pordemone quindi poteva contare su una buona dose di quello che possiamo definire petrolio bianco, perché era il propellente per il suo sviluppo, all'inizio in piccoli opifici, poi l'ondata di industrializzazione con cotonifici e filande, tanto che Pordenone è ancora ricordata nelle pagine della storia come la piccola Manchester del Friuli. Quindi grazie all'acqua tanta manifattura e tanti commerci. E nel mezzo di questi riferimenti ci stanno anche le cronache del Settecento, molto importanti e bellissime da ricordare e da leggere, raccolte nei commentari urbani del Pomo, che descrive la Pordenone dei traffici e dei commerci per comprendere l'importanza di questi movimenti attraverso l'acqua. E per ricordare, per fare solo un inciso, esisteva una potente confraternita di barcaioli scrupolosa nel disciplinare le attività dell'acqua in un voluminoso codice. Merita di ricordare un passaggio tratto dei commentari del Pomo, che dà notizia di un straordinario evento per quegli anni a Pordenone, il baro di un'imbarcazione. Siamo nel 1744. Il Pomo scrisse, le sponde del noncello erano piene di gente, per la curiosità di vedere la nuova barca andare nell'acqua. Allora convenuta montarono nell'imbarcazione più di cento persone, compreso il parroco che bene di tutto e una compagnia di suonatori che agliettò l'evento con concerti e sinfonie per molte ore. Questa è una storia lunga alcuni secoli del rapporto strettissimo città-acqua. Poi in neanche un secolo è stato trasformato tutto, tutto ribaltato. Il tratto storico che determina questa rottura di legame della città con il suo fiume si può datare subito dopo la Prima Guerra Mondiale, quando tutto svanì e fu interrotto quell'importante piano di ampliamento dell'utilizzo del noncello. Secondo una ricostruzione storica fatta da alcuni amministratori molto informati sui fatti, fatti, il progetto in parte finanziato prevedeva la realizzazione di due porti sul noncello. Il primo doveva essere costruito nei pressi del ponte Amman ed era funzionale ai trasporti del cotonificio Amman. Il secondo doveva essere costruito al di là della massicciata della ferrovia e collocato quindi a ridosso di uno scalonerci. Ecco, si prevedevano opere grandiose per quei tempi, ma come spesso accade per le opere pubbliche italiane, poi i soldi vengono a mancare e tutto finisce, anche perché mancano i soldi poi il tempo ha portato anche a una chiusura di tutto quello che era il commercio via fiume. Ecco, l'unico intervento concreto che venne portato a termine fu quello dello spostamento, proprio letteralmente uno spostamento del corso del fiume una cinquantina di metri verso la chiesetta della Santissima. Questo spostamento purtroppo fu utilizzato per la propria costruzione della riva Erasca, che magari adesso rischiamo anche di maledire in quanto è sposta e in quanto recide questo rapporto tra città e fiume. Fu uno sbrego che non fu mai più recucito ed ecco che anche a causa di questo i legami della città col suo fiume si allentarono fino a scomparire. Ma con lo strappo dal muccello si maturò progressivamente anche quello della città col suo articolato patrimonio idrico, rogge intubate, laghetti dimezzati e abbandonati. Quindi la città d'acqua nel boom economico degli anni 60 diventò progressivamente la città del cemento. Dell'acqua non c'era più bisogno perché non serviva più all'economia. Con il boom economico l'economia riuscì a cambiare pelle. Quella è stata la grande fortuna di Bordenone. Dal telaio al tornio, dal tessile alla meccanica, non solo Zanussi, Savio e Locatelli, ma una galassia estesa e ben ramificata nel territorio di aziende successivamente poi distribuite in efficaci distretti industriali che coinvolsero nella crescita del territorio che va da livezza al tagliamento. Possiamo definirla una fabbrica diffusa, una fabbrica diffusa nel territorio e con essa prese consistenza la città fornista che impose i suoi ritmi e le sue regole. Contavano i grandi numeri, le volumetrie, il riempimento di ogni spazio, cioè quella che viene definita in sintesi la quantità, che sono poi tutti gli elementi della fotografia della Bordenone d'oggi, anche se in crisi. La Bordenone d'oggi è ancora impostata sui ritmi e sulle regole di una città qualsiasi fornista. E quindi ci troviamo col cerino in mano della crisi di un modello di sviluppo. È inutile, secondo me, pensare di attendere che passi la bufera perché poi qualche rimedio si troverà. Non penso proprio che succederà questo, perché il mondo è cambiato nelle sue dinamiche economiche. Stare fermi ci finisce poi per perdere definitivamente delle opportunità. Soffermiamoci sui casi vincenti in zero per il mondo, e ce ne sono tanti, dove le crisi strutturali hanno sbriciolato intere città che sembravano invincibili. Ebbene, ha vinto e sta in piedi chi ha avuto il coraggio e ci sono case e spazi un po' per tutta America, l'Illiterra ha vinto quelle realtà che hanno avuto il coraggio di reinventare la città. Cioè esprimere un effetto laboratorio che è essenziale in questi tempi. Reinventare la città sia sotto il profilo economico, sia sotto quello urbanistico. ricerca e innovazione toccano le fabbriche, ma anche l'impianto e la vita di una città. A Pordenone non si può restare testardamente ancorati a quello che era il passato fortista. E' necessario accentuare quella metamorfosi che, come sostengono efficacemente gli analisti della Fondazione Nordest, chiede di assorbire più mente d'opera che mano d'opera. Perché nell'era dell'accesso nell'era dell'accesso conta il capitale intellettuale. Ecco che per reggere il sistema ha bisogno di qualità della città, dentro i cancelli della fabbrica, ma anche dentro la città. Non so voi, ma... Io mi sono ritrovato un paio di anni fa in quelle lenzuolate fitte di giornale che erano state acquistate da un nostro visionario imprenditore, Gabriele Centazzo. Mister Valcucine per capirci. Ecco, in due parole cosa esprimevano quei concetti. Esprimevano che il nuovo Rinascimento parte dalla creatività, dalla ricerca e dalla bellezza. La bellezza è fondamentale per ricostruire una nuova fase di crescita cordenonese. Ecco, spero che sia conclusa la stagione delle cubature a piene mare, per espandere soltanto l'area urbana. La città non reggerebbe più un altro ecomostro, tra l'altro destinato a restare vuoto. Altrimenti, a chi invece ha ancora questo tipo di visione, consiglierei delle letture puntuali sull'effetto Detroit, che è molto simile al nostro con le dovute proporzioni. una città fantasma, con il suo numero infinito di edifici abbandonati, carcasse di cemento tra i rovi. Detroit ha avuto la crisi e in dieci anni è scomparsa come città, si è ridimensionata e diventata fantasma. Allora, è meglio che la città resti ferma? No! Non è questo il concetto. La città deve essere dinamica. Ma le cubature si usano, con parsimoni e intelligenza, per rigenerare pezzi di città, per rammendare degli strappi che sono stati fatti nel corso della storia, per ripristinare dei consumi energetici sostenibili. In giro, purtroppo, pensano che Pordenone sia ancora una terra di caserne e di fabbriche, quando non lo è più. Quando questi luoghi sono dismessi e chiedono di essere ripresi in considerazione. Qual è il tempo di oggi? Il tempo di oggi è la rigenerazione. E qui, permettetemi, mi levo un altro piccolo sassolino. Non capisco, personalmente, per quale motivo, dopo che ci siamo sbranati e bastonati sull'ospedale, comina sì, comina no, ora che tutto è pronto per sperimentare un'idea di città basata sulla rigenerazione urbana, senza mangiare, quindi, altro suolo, l'operazione è vissuta con estremo imbarazzo, quasi nascosta. Ci vergogniamo che stanno costruendo un nuovo ospedale in quel luogo, al posto di un'area dismessa. Viva Dio! È l'investimento più importante della storia della nostra città. Sono in valo 200 milioni di finanziamento e noi ce ne scordiamo. E lasciamo l'operazione in mano agli funzionari. Controlliamo e sorvegliamo, e forse meglio per tutti, il progetto che sarà adottato. Ritornando al tema centrale, invece, quello della centralità dell'acqua. Come ripensare Pordenone? Nelle fasi di spaesamento ci vengono utili degli importanti, fondamentali, materiali che si ricavano dalla nostra storia. Ecco che gli ingredienti per la rinascita noi li possiamo trovare decisamente nella parte più trascurata in questi anni di città. Proprio quella legata all'acqua, che non può essere, come si diceva prima, un problema, ma deve essere un valore aggiunto. Pensiamo soltanto un attimo al grande concerto di Anzobino offerto all'Alba, con la gente che spontaneamente arrivava a ridosso del noncello, si riappropriava di quei luoghi e non ce lo tornava sulla scena della vita cittadina come valore identitario. E' stato solo un evento, spero che questo porti a nuove repliche e per quanto ne so qualcosa di nuovo si sarà fatto. La natura è stata generosissima con i bordelonesi. Nelle fredde statistiche sulla qualità della vita siamo decisamente nella parte più alta perché abbiamo ancora queste riserve auree del patrimonio d'acqua e di verde, anche se è sempre frantumato. Ebbene, se c'è la consapevolezza di quanto sia fondamentale investire sulla qualità, ecco che la costruzione della città del futuro dovrà necessariamente partire dalla riconnessione con l'acqua e con i parchi, perché la bellezza del paesaggio gioca un ruolo fondamentale nell'accoglienza e nella vivibilità. E anche magari per lo sfruttamento delle acque, per energie rinnovabili, basta pensare al caso significativo dei laghetti di San Giorgio, piccole fonti di energia pulita. Qual è la potenzialità di questo patrimonio d'acqua e di verde per Pordenone? Per capirlo basterebbe fare un giochetto molto semplice. Prendere la cartina di Pordenone e stenderla su un tavolo, colorare di verde il pacco fluviale e le aree che delimitano i laghetti sparsi per la città e i parchi e magari qualche prato di roggia scoperta. Il risultato è una larghissima macchia verde che è ancora omogenea. Dovrebbe essere chiaro che la qualità della vita è proprio lì dentro, è nel corpo di un'altra città verde che è nella città. Come procedere? Ognuno ci può mettere poi dentro qualcosa, non è difficile, abbiamo a Pordenone dei bravi architetti, possono esercitarsi ad esporre idee e pensieri lunghi e forse arriverà anche qualche lavoro. Certo la città non può essere lasciata così. Quella macchia verde-azzura deve essere e deve riesprimere paesaggio e vita per battere la tristezza e l'abbandono di oggi. E forse si capirà finalmente che quella macchia è un tutt'uno territoriale, basta vedere la cartina, è un tutt'uno territoriale, senza quei rigidi confini che sono ormai anacronistici tra Pordenone, Cordenone e Pozzia. E' un parco comprensoriale liquido, per usare un termine alla Bauman, che deve essere pensato insieme attraverso un'unica regia. Se la società è liquida, che senso hanno amministrazioni rigide? Siamo figli della stessa città e sarebbe un ulteriore valore aggiunto che l'intera area comprensoriale potrebbe svolgere a livello regionale. Per avviarmi un po' alla conclusione un altro concetto. Pordenone, abbiamo visto nella storia, ha voltato le spalle al noncello. Eppure la storia si era caratterizzata in un altro modo. La città si affacciava al fiume con il fronte nobile. Architetture monumentali e parco, noi abbiamo messo la strada che separa il centro storico del fiume. Il fronte nobile, però, è costituito ancora dal complesso monumentale chiesa campanile di San Marco e dal castello, purtroppo ridotto a misero carcere, vecchio carcere. In prospettiva, però, io mi auguro che le cose cambino. C'è una procedura che dovrebbe portare il carcere a San Vito, al tagliamento e quindi a ridefinire una nuova funzione e una ristrutturazione nel castello. Si potrebbe lavorare quindi sul castello senza carcere, con una sua nuova interconnessione. Ci sono delle bellissime cartoline color seppia, degli anni che furono, di questa interconnessione del castello con la roggia e con il fiume. Ecco, ripristinando magari l'altura, senza quell'orribile murale di sicurezza. Perché l'anima della città è dentro quella che noi abbiamo sempre chiamato la nostra contrada maggiore, con gli accessi al fiume, con la sua vera piazza. Piazza, finalmente piazza non contenitore di auto. La piazza che è piazza della motta, col nobile interrompimento che la chiude e che si può tranquillamente ricostruire, visto che gli elementi sono stati conservati nei sotterranei delle scuole elementari gambelli. Quella piazza che fu sede di allegria, di buon morto e canti e sbaccanate, come descriveva Ettore Busetto, che carnava la rivacità di quei tempi portemonesi. Una piazza ricca di umanità, definita compendio di cronache e di storia, perché là dentro non mancava niente. Contrana maggiore era la città acqua, il tutt'uno con il noncello. Apro solo un inciso per dire che non è pensabile che una città che ha una storia d'acqua non abbia neanche un segno di acqua e di verde in quelle che sono le sue piazze. O meglio, che non abbia addirittura una piazza, perché non si può chiamare piazza né quello spazio definito con la colonna spartitraffico in centro o con i gabbiotti ai lati, mi riferisco a quella che dovrebbe essere piazza Cavour, o un deserto di cemento, piazza 20 settembre, o un parcheggio, piazza della morta. Ma come possiamo pensare di riportare l'allegria di riaccendere una città se non è neanche una piazza? Mi è un po' difficile comprendere queste cose e poi ci lamentiamo perché le nuove piazze sono quelle virtuali dei centri commerciali. Penso allora al cuore pulsante di Pordenone con tanto di piazza che si disperde verso da una parte il labirinto di Vicoletti del Cristo e verso il fiume, almeno per un tratto senza barriere stradali, e un tratto di roggia che potrebbe riaffiorire bagnando i contorni dell'altura del castello. Non mi fermerei tanto alla semplice chiusura della rivierasca, ovviamente si vuole un contesto funzionale di nuova mobilità, un piano di viabilità, mi rendo conto, ma se noi dobbiamo pensare a quel recupero, dobbiamo pensarlo come recupero di condizioni di viabilità lungo fiume, che diventa la parte poi più importante e più caratteristica di vita cittadina, che si integra decisamente con il centro storico. Si potrà ovviamente procedere, si dovrà procedere per sperimentazione, ma viva Dio, bisogna pure cominciare da qualcosa e soprattutto fare qualcosa. Non possono essere le auto in una città che non si definisce più fordista, ma che cerca la vivibilità attraverso la qualità, non possono essere le auto a condizionare il destino di una città. Allora l'importante è avere una visione dinamica di città, così anche la grande crisi va affrontata e si supera con quali risultati? Dipende da come si affronta, alla fine si potrà dire che disastro, se non si è fatto niente, se siamo stati fermi, se siamo stati in attesa di qualcosa, oppure che lungo tormento ha rappresentato alla fine la pietra angolare su cui è stato costruito un futuro di città. Grazie. Grazie.